Non è mai successa il primo premio sport E' ciolito la messa, e' ciolito la messa, grande Napoli E' appena finito, Cremonese Napoli, valida per la nona giornata di Serie A E' grande vittoria del Napoli, comunque complimenti alla Cremonese che si è battuta da grande leonezza Cremonese 1, Napoli 4, col vantaggio nel primo tempo il Napoli con Politano Pareggio nel secondo tempo, poi decisivo l'ingresso del ciolito Simeone che l'ha messa Che quanto entra, fa un bellissimo gol di testa e arriva l'1-2 del Napoli Dopo succede che nel finale della partita con la Cremonese, giustamente tutta sbilanciata Grande e bella zona di Carasvena, Simeone dalla palla ad Lozano Che siga il gol della sicurezza dell'1-3 e anche nei minuti di recupero su un bel cross Arriva anche il primo gol in Serie A di Olivero, l'uruguagliano della nazionale uruguagliana Finisce Cremonese 1, Napoli 4, da questo risultato Napoli ha avuto un po' più di difficoltà Di quello che dice il risultato finale, speriamo per Acmani non sia un infortunio particolare Non si sa se sia muscolare, se sia ginotto Comunque, grandissimo Napoli che vince 4-1 fuori casa contro la Cremonese Prende largo in testa il campionato da solo Sta tentando una mini fuga, non una grande fuga, una mini fuga Finisce così, Cremonese 1, Napoli 4, decisivo secondo me nel secondo tempo Sul risultato di 1-1, l'ingreco del cionito Sieneone che fa quel bellissimo gol dell'1-2 Ed è stato anche determinante dell'azione degli altri due gol Finisce così, Cremonese 1, Napoli 4, siamo straprimi classifica Forza Napoli!